Ciao cari, ci troviamo a Cagliari in via Corso Vittorio Emanuele in Sardegna ovviamente Sardegna che ha piatti tipici a base di carne, a base di formaggi ma anche per chi mangia solamente vegetale anche per chi ama la cucina vegetale ci sono delle interessanti possibilità ho scoperto qui al centro di Cagliari tre diversi locali completamente vegani tra cui Universo Vegano, la famosa catena in franchising che abbiamo anche a Roma con la differenza che come potete vedere il locale è molto grande adesso è vuoto perché siamo fuori orario però l'ho visto sempre molto pieno ma soprattutto la cosa interessante è il menu è il menu perché abbiamo la bellezza di oltre 50 diversi piatti da ordinare tra burger, sandwich, focacce, piadine, pizze, ci sono anche le pizze, suppe, insalate i vecchiotti che sono dei piatti fantastici, paste, secondi, tutti quanti serviti in un piatto che è a sua volta commestibile e poi abbiamo tutta una serie di dolcetti fantastici ve ne faccio vedere qualcuno guardate un po' che rubetta ovviamente abbiamo le bibite tra cui il succo di frutta al basilico il succo di frutta al basilico che ho assaggiato poco fa devo dire che è molto buono il locale è carino appunto c'è il wifi gratuito molto elegante ho conosciuto varie persone che ci lavorano molto simpatiche quindi se capitate a Cagliari un consiglio potete passare da Universo Vegano ciao cari alla prossima